Dalla scorsa trasmissione abbiamo introdotto un tema molto delicato, l'immortalità dell'uomo. Secondo i testi biblici l'uomo non possiede l'immortalità, ma questa gli deve essere conferita da Dio stesso. Ci lasciamo formulando la seguente domanda. Quando l'immortalità viene accordata al credente? Subito dopo la morte o al momento della risurrezione? O per meglio dire, i morti vivono? E questa è una domanda che si sono posti tutti, credo. Probabilmente non c'è uomo sulla faccia della terra che non se la sia posta. Circa 3.000 anni fa Giobbe si chiese quello che prima o poi ogni essere umano che pensa e che ama si domanda. Al capitolo 14, versetto 10 del suo libro leggiamo L'uomo more e si fiacca, l'uomo spira e dove va? Sì, dove va l'uomo dopo la morte? Ecco, la morte, come il male di cui è la più terribile conseguenza, è un'anomalia della natura. Un'intrusa, se possiamo dire, che si è introdotta a causa di un incidente, di un disordine che la oppone in modo irresistibile al bisogno di vita, di gioia, di amore e di eternità che esiste in fondo ad ogni anima umana. Una nota stonata, possiamo dire, nella grande armonia universale. Ecco, per i materialisti la morte è la fine di ogni cosa, è il punto terminale del destino umano. Per i tradizionalisti, invece, ritornando al discorso fatto la volta scorsa, la morte è un principio, poiché l'anima, secondo loro, liberatasi dal corpo che diventa polvere, se ne va al purgatorio, all'inferno, al paradiso, per vivere in eterno. Ecco, invece, purtroppo, per la Bibbia la morte è qualcosa di diverso. scientificamente parlando, la morte è la cessazione dell'attività protoplasmatica delle cellule che costituiscono l'individuo. Quindi, è la distruzione dell'organizzazione cellulare ed è totale quando l'ultima dei circa 30 miliardi di cellule viventi dell'essere umano è morta. Nell'Antico Testamento la morte appare come l'opposto della vita. E anche nel Nuovo Testamento noi abbiamo Gesù, per esempio, che soffre di fronte al suo amico Lazzaro morto. Quindi, c'è sofferenza di fronte alla morte. Perfino Gesù ha pianto, ha sofferto di fronte alla morte. Ora, dobbiamo domandarci, visto che è il tema della nostra trasmissione, questo era il senso della domanda postami, che cosa accade all'atto della morte? E quindi, che cosa accade subito dopo la morte? Per riassumere quanto abbiamo detto la volta scorsa, noi diremo ancora che, all'atto della morte, lo spirito si dissocia dal corpo e il corpo diventa polvere, si dissolve, mentre lo spirito ritorna a Dio. L'anima, che non è altro che la risultanza dell'unione di due elementi citati, corpo e spirito, l'anima si dissolve insieme a tutto il resto. Non esiste un'animella che se ne va qui e là, o in qualche stato particolare, paradiso, inferno, purgatorio, ma l'anima è la persona stessa, che è tale, che è vivente, solo quando i due elementi, spirito e corpo, si incontrano. Quando lo spirito tocca il corpo, il corpo diventa un'anima vivente. Quando lo spirito torna a Dio, il corpo e quindi anche l'anima muoiono. Non rimane più niente. Dalla lettura della Bibbia apprendiamo che esiste un luogo dove si radunano tutte le persone defunte. Cosa potresti dirci al riguardo? La Bibbia dichiara che i morti scendono nel soggiorno dei morti, o Sheol Hattes. Il vocabolo Sheol in ebraico si trova 65 volte nell'Antico Testamento, mentre il termine Hattes, che è lo stesso termine, l'equivalente greco, è citato 11 volte nel Nuovo Testamento e le due parole hanno in fondo lo stesso significato. Quindi lo Sheol Hattes non indica il paradiso e tantomeno l'inferno con le sue pene eterne. Infatti questo termine può essere benissimo sostituito con le parole sepolcro, tomba, soggiorno dei morti. Ecco, ognuno deve scendervi, dice la scrittura. Il soggiorno dei morti è un luogo di fitte tenebre, paragonato a un carcere che ha delle porte, come si dice in alcuni testi biblici, che trattiene i suoi prigionieri fino alla resurrezione. Il soggiorno dei morti è perciò un luogo a sé che non va confuso né col paradiso né col purgatorio e quindi nemmeno con l'inferno, che comunque sia inferno che purgatorio la Bibbia come luoghi ignora totalmente. Non deve essere nemmeno confuso questo termine del soggiorno dei morti né colagenna o lago di fuoco. Ecco, quindi, è il sepolcro, possiamo dire così. Il soggiorno dei morti è il sepolcro, non un luogo dove i morti vivono, è un luogo dove i morti sono morti, sono in silenzio e aspettano la resurrezione alla fine dei tempi, quando Gesù ritornerà. Contrariamente ai nostri concetti, in qualche modo sentimentali, i morti non sanno nulla, perché sono incoscienti. E sì, perciò non sanno, non vedono, non soffrono, non godono, ma dormono soltanto. Ecco, quindi lo stato dei morti può essere sintetizzato con cinque parole. Silenzio, Oblio, Incoscienza, Sonno, Riposo. Ecco, ora ascoltiamo alcuni versetti biblici a riguardo della morte, intesa come sonno, come riposo. Dal Salmo 94, il Salmo 115, e poi ancora Isaia, Ecclesiaste, eccetera, eccetera. Ce li leggerà Monica, come al solito. Se l'Eterno non fosse stato il mio aiuto, a quest'ora l'anima mia abiterebbe il luogo del silenzio. Salmo 94, versetto 17. Non sono i morti che lodano l'Eterno, né alcuno di quelli che scendono nel luogo del silenzio. Salmo 115, versetto 17. Non è il soggiorno dei morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa celebrare. Quelli che scendono nella fossa non possono più sperare nella tua fedeltà. Ecco, era questo l'ultimo brano tratto da Isaia, capito al 38, versetto 18, ma ce ne sono ancora due veramente molto forti. E' questo del Salmo 6, versetto 5. Nella morte non c'è memoria di te. Chi ti celebrerà nel soggiorno dei morti? E infine quello di Ecclesiaste, capitolo 9, versetti 5, 6 e 10. I viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. E non v'è più per essi alcun salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti, ed essi non hanno più, né avranno mai alcuna parte, in tutto quello che si fa sotto il sole. Tutto quello, il consiglio finale dell'Ecclesiaste, che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. E quindi aggiunge, poiché nel soggiorno dei morti dove vai, non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né sapienza. Ecco, nell'Antico Testamento noi abbiamo una concezione della morte come sonno, riposo, come oblio totale. Infatti il Signore dice a Daniele, il suo profeta, qualcosa a riguardo degli ultimi giorni e della sua morte. E gli dice, Daniele, ora basta, la tua vita è finita qui, e poi ti risveglierai. Ma ecco, il testo integrale, così come si trova nel libro di Daniele, versetti 2 e 13. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obroprio, per una eterna infamia. Ma tu avviati verso la fine, gli dici, cioè, ormai stai per morire. Tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni. Nell'Antico Testamento la morte è vista come un sonno dalla quale ci si può svegliare soltanto alla fine del mondo, cioè al ritorno di Cristo. Nell'Antico Testamento abbiamo detto che la morte è concepita come un sonno, un riposo dalla quale ci si sveglia soltanto alla fine del mondo, cioè al ritorno di Cristo. Ma nel Nuovo Testamento non troviamo nulla di diverso. Gesù, infatti, ci raffigura i defunti, i morti, sotto lo stesso aspetto indicato nell'Antico Testamento, cioè in uno stato di assoluta incoscienza, incapaci di pensare e di volere. Essi non possono conoscere il Dio né servirlo, né lodarlo o sfidarlo. Ogni rapporto fra loro e lui è cessato e se non le suscitassero sarebbe di loro come se non fossero mai esistiti. A lui, Berctu, dice che la dottrina di San Paolo è ancora più esplicita di quella di Gesù. Tutto lo spazio di tempo che intercorre fra la morte e la resurrezione è nullo, è come se non esistesse, come non avvenuto, di modo che se non ci fosse la resurrezione bisognerebbe rinunciare ad ogni speranza di oltretomba, di una vita nell'aldilà e non sarebbe più il caso di parlare di vita futura. Ora, faremo leggere a Monica un brano del Vangelo che ci parla della morte e resurrezione di Lazzaro che illustra molto bene questo insegnamento di Gesù. Poi Gesù disse loro Il nostro amico Lazzaro si è addormentato ma io vado a svegliarlo. I discepoli gli dissero Signore, se gli dorme, sarà salvo. Ora Gesù aveva parlato della morte di lui ma essi pensavano che avesse parlato del dormire e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente Lazzaro è morto. Ecco, se oltre la morte fosse accaduto qualcosa di particolare certamente Gesù ne avrebbe parlato e in tal caso il suo silenzio sarebbe incomprensibile. Gli apostoli poi si attennero scrupolosamente all'insegnamento di Gesù. Luca, parlando di Stefano o il primo martire, scrive Poi, postosi in ginocchio gridò ad alta voce Signore, non imputar loro questo peccato e detto questo si addormentò. Anche Paolo, l'Apostolo usa ripetutamente l'espressione addormentato per indicare i morti. Ora ascolteremo proprio un brano di Paolo prima Tessalonicesi, capitolo 4 versetti 13 e 15 e poi ancora altri brani tratti sempre dal Vangelo dove noterete ricorrere molto frequentemente questa parola addormentati per indicare il sonno della morte. Ecco, lasciamo ancora a Monica lo spazio per leggerci questi testi. Or fratelli, noi non vogliamo che stiate in ignoranza circa quelli che dormono affinché non siate contristate come gli altri che non hanno speranza. Poiché, se crediamo che Gesù morì e risuscitò così pure quelli che si sono addormentati il Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poi, questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi che saremo rimasti fino alla venuta del Signore non precederemo quelli che si sono addormentati. Poi Cristo apparve a più di 500 fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita ed alcuni si sono addormentati. Se Cristo non è risuscitato quelli che dormono in Cristo sono dunque periti. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti primizie di quelli che dormono. Non tutti morranno ma tutti saranno mutati. Ecco, la nozione dello stato incosciente dei morti era chiara nella Chiesa cristiana dei primi secoli e nel testimonio alla seguente dichiarazione di Lattanzio nel IV secolo. Tutte le anime sono detenute in un carcere comune fino a che non giunga il tempo in cui il giudizio esaminerà i meriti degli uomini. E ancora Luis Bactu aggiunge sarebbe sufficiente all'occorrenza un po' di filologia per sapere quel che pensavano dell'oltretomba i primi cristiani. Le loro idee hanno conservato nella nostra lingua una testimonianza irrefutabile. La parola cimitero infatti vuol dire dormitorio e deriva dalla stessa radice dei vocaboli greci adoperati nel Nuovo Testamento per indicare quelli che dormono cioè i defunti. quindi il cimitero è il luogo di quelli che dormono. I nostri morti stanno dormendo stanno riposando. Se la condizione lo stato dei morti è come lo hai presentato possiamo anche credere a un risveglio di essi? A una vita futura? Certo i morti rivivranno. Se i morti si riposano in uno stato di assoluta incoscienza non dobbiamo credere che essi non rivivranno mai più. quelli che noi abbiamo affidato alla terra perché addormentati nel sonno della morte aspetteranno per sempre nell'incoscienza oppure un giorno la vita sarà loro restituita in un corpo glorificato. Molti si chiedono. Ecco, i morti non rimarranno in eterno nell'incoscienza perché resusciteranno. Il cristiano crede nella certezza della resurrezione dei morti e nutre la propria anima con questa incrollabile speranza altrimenti saremo veramente tutti perduti angosciati. La dottrina biblica della sopravvivenza dopo la resurrezione lungi dal costituire un motivo di sconforto molto più edificante di quella concernente invece l'immortalità naturale dell'anima o del sovrannaturale spiritico. Se la Bibbia ci toglie le illusorie consolazioni della sopravvivenza cosciente o del sovrannaturale spiritico ci dà la vera consolazione quella della resurrezione e del sovrannaturale biblico. Ora la consolazione che la Bibbia porge agli afflitti non è l'indistruttibilità dell'anima quindi l'immortalità ma il risveglio dell'intero essere. L'immortalità dell'anima è la problematica speranza dell'incredulità mentre invece la resurrezione dei morti è la sicura attesa della fede. Nel resto come potremmo noi conciliare l'idea pagana dell'immortalità naturale dell'anima con la dottrina biblica e della resurrezione che cosa serve una resurrezione se già dopo la morte l'anima se ne va in paradiso o all'inferno è un controsenso e allora ci sono voluti tutti dei rigiri teologici per poter non spiegare ma mantenere in piedi una contraddizione di questo genere ma le menti semplici le menti che vogliono conoscere la parola del Signore si accorgono di questa incongruenza a che cosa serve una resurrezione finale se già si risorge dopo la morte ecco la teoria dell'immortalità naturale dell'anima rende inutile la morte di Cristo perché a che scopo morire sulla croce se noi comunque risorgiamo subito dopo la morte invece il discorso è molto più serio proprio perché Cristo è risorto egli ci strappa dal sonno della morte e quando tornerà alla fine del mondo nella resurrezione finale egli farà risorgere tutti coloro che in lui hanno creduto gli farà risorgere da quella tomba da quel cimitero da quel dormitorio dove ora tutti sono addormentati infatti si dice in Giovanni 3.16 Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca non muoia ma abbia la vita eterna e ancora Giovanni in un altro testo straordinario dice che Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo figliolo chi ha il figliolo ha la vita chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita con l'idea dell'immortalità dell'anima il dramma del Calvario è incomprensibile e le spiegazioni forzate a cui si ricorre altro non fanno che renderlo ancora più oscuro ascoltiamo che cosa dice Roland de Puri dalla voce di Monica la predicazione dell'immortalità naturale equivale a negare la divinità di Cristo l'unigenito di Dio ed annulla la croce del Golgotha nella quale Dio si è abbassato fino alla nostra morte essa inoltre sminuisce la portata dell'amore di Dio il quale non consiste nello sviluppare in noi mediante un ammirevole esempio di dedizione una scintilla divina ma piuttosto nel darci la stessa sua vita ecco i morti ritorneranno in vita ma solo mediante la resurrezione la prima resurrezione quella dei giusti l'immortalità perciò è facoltativa la vita senza fine è un dono di Dio nel suo figlio per ricevere questo dono bisogna desiderarlo ricercarlo e accettare l'intima unione con la vita divina incarnata in Gesù Cristo la vita eterna che implica la simultanea in presenza del corpo dello spirito e dell'anima presuppone una resurrezione dell'uomo tutto intero una redenzione integrale essa appare come una vittoria della solidarietà di Cristo con l'umanità perduta poiché egli si è fatto solidale nella sofferenza e nella morte e vuole che noi a nostra volta siamo solidali con lui nella vita ecco si tornerà a vivere ma grazie alla nostra fede in Gesù Cristo puoi aggiungere qualcosa a questa visione di una futura vita? fin dalle pagine delle prime pagine dell'antico testamento noi troviamo la promessa di un paradiso restaurato che necessariamente implica una vita futura nell'annunciare per esempio ad Adam e Deva che la progenie della donna avrebbe schiacciato la testa del serpente e nel promettere ad Abramo questo straniero nomade sulla terra il possesso dell'intero paese Dio intendeva accendere proprio nei loro cuori la luminosa fiamma della speranza di una vita migliore ecco fiamma alla quale sarebbero poi venute a riscaldarsi decine di generazioni quanti pretendono che l'antico testamento non parli mai della vita futura farebbero bene a meditare i passi che ora io vorrei leggervi per esempio ecco uno del Salmo 16 versetto 10 dice così il salmista tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte né permetterai che il tuo santo senta la corruzione della forza della fossa ecco quindi qui c'è una speranza di vita futura io non rimarrò nella fossa non sarò corrotto Isaia diceva annienterà il Signore per sempre la morte e asciugherà le lacrime da ogni volto quindi c'è una speranza ancora sempre Isaia nel capitolo 26 del suo libro dice rivivano i tuoi morti risorgano i tuoi cadaveri svegliatevi giubilati o voi che abitate nella polvere poiché la tua rugiada è come la rugiada dell'aurora e la terra getterà fuori trapassati ancora in un altro luogo aggiunge così parla il Signore l'Eterno ecco io aprirò i vostri sepolcri vi trarrò fuori dalle vostre tombe e vi condurrò nel paese di Israele una bellissima immagine della resurrezione evangelica ecco come è facile poter vedere che anche nell'Antico Testamento si parla di una vita futura di una specie di resurrezione anche Giobbe dice delle parole stupende a riguardo della vita futura della sua speranza dice così nel capitolo 19 del suo libro ma io so che il mio vendicatore vive e che alla fine si leverà sulla polvere e quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo senza la mia carne vedrò il Dio io lo vedrò a me favorevole lo contempleranno gli occhi miei non quelli di un altro il cuore dalla brama mi si strugge in seno ecco Giobbe è tutto preso da un fremito da una gioia indicibile nel pensare nell'immaginare che un giorno dalla sua tomba si alzerà e potrà incontrare il suo salvatore questo per quanto riguarda l'antico testamento non di meno è soprattutto il nuovo testamento a mettere in luce la verità della resurrezione dei morti e a stabilire uno stretto legame fra questa verità e quella della vita eterna ora quest'ultima espressione che vi si ritrova 40 volte indica una vita diversa da quella attuale che è temporanea e interrotta dalla morte la vita eterna viene data alla resurrezione e rappresenta il premio di chi ha fede gli empi invece subiranno come castigo la distruzione totale non un inferno di pene un periodo eterno di pene di dolori ma una distruzione totale e quindi ne deriva per logica e naturale conseguenza che l'immortalità è condizionata ascoltiamo ora alcuni brani dell'Evangelio di Giovanni a riguardo della risurrezione della prospettiva della vita futura questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato ma che lo risusciti nell'ultimo giorno Giovanni 6 versetti 39 40 non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezioni di vita e quelli che hanno operato male in risurrezioni di giudizio Giovanni 5 versetti 28 29 ecco quindi non c'è ricompensa senza risurrezione Gesù dice che tutti coloro che in Lui crederanno avranno la vita eterna noi potremmo aggiungere che non c'è castigo senza risurrezioni vi sono infatti due risurrezioni come appare la dichiarazione di Gesù di Giovanni capitolo 5 versetti 28 e 29 dichiarazioni che ha lette Monica ecco non vi meravigliate di questo perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in risurrezione di vita quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio Daniele capitolo 12 versetto 2 ribadisce questo concetto la moltitudine di quelli che dormono nella polvere dice il profeta si risveglierà gli uni per la vita eterna gli altri per l'infamia eterna ci sarà una resurrezione dei giusti e una degli ingiusti e questo è il famoso discorso del millennio cristiano famoso discorso del millennio cristiano e che qui non possiamo affrontare ad ogni modo quello che invece possiamo dire con certezza con sicurezza con gioia è che la realtà della resurrezione trova la sua incrollabile base nella resurrezione di Cristo che è la prova suprema e rifutabile della fedeltà di Dio San Paolo in prima Corinzi capitolo 15 indica quali incalcolabili conseguenze sarebbero derivate da una mancata resurrezione di Cristo se Cristo non fosse risuscitato vana sarebbe la nostra fede saremmo disperati per vivere Cristo stesso doveva risuscitare mentre il suo corpo giaceva nella tomba la sua anima non era in cielo poiché se ben si ricorda il giorno della resurrezione Gesù stesso risorto dice a Maddalena non mi toccare perché non sono ancora salito al padre ecco Dio dice Paolo dice Luca cioè negli atti degli apostoli Dio lo resuscitò Gesù avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto e così come Dio ha resuscitato il Signore resusciterà anche noi mediante questa potenza straordinaria e se lo spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in noi colui che ha resuscitato Gesù dai morti dice Paolo vivifecherà anche i nostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in ognuno di noi con la resurrezione Gesù Cristo ha vinto la morte ora non gli rimane che distruggerla questa morte ed egli lo farà quando annienterà i malvagi al suo ritorno quando farà scomparire per sempre il male dalla terra ma il messaggio consolatorio consolante straordinario e finale che noi possiamo veramente avere fiducia in una vita futura in una vita dopo la morte l'importante è esserci in questa meravigliosa nuova terra si conclude qui il nostro appuntamento odierno abbiamo appreso che i morti non vivono ma attendono in stato di assoluta inconscienza la resurrezione finale e dato che per i giusti esiste un premio dovrà esserci anche un castigo per i malvagi in poche parole esiste o no un inferno al quale sono destinati tutti coloro che si sono ribellati alle leggi del Signore è quanto vedremo con voi la prossima settimana a risentirci